per completare il piano interrato che abbiamo disegnato prima mancano ancora in realtà due cose che sono il disegno di questa griglia che avevamo lasciato in sospeso e anche diciamo così il completamento del solaio del piano interrato. Iniziamo con la griglia allora per poter mettere una griglia traforata che permetta la reazione e la ventilazione delle nostre finestre della bocca di lupo dobbiamo utilizzare l'oggetto griglia. Allora andiamo su strumenti oggetto andiamo sulle varie opzioni ecco qui lo troviamo già predisposto però diciamo che avremmo potuto fare la ricerca nel senso che qui noi abbiamo tutti i vari oggetti presenti nella libreria di Archicad ma abbiamo anche la possibilità di con la barra di effettuare delle ricerche quindi se noi scriviamo la parola griglia troviamo appunto un oggetto che è quello che serve per noi. È un oggetto parametrico che ha bisogno di inserire le varie dimensioni. Adesso l'oggetto standard è 3 metri per 3 metri e ha 7 elementi lungo l'asse X o il verso A e 7 elementi nel verso B. Adesso noi la inseriamo così come è e la mettiamo in questo punto. Chiaramente questa griglia non va bene per noi. Allora dobbiamo stabilire quali sono le misure che a noi interessano. Allora con lo strumento righello andiamo a misurare da questo punto a quest'altro punto qua eccolo qua che è la misura di 5,60. Rimaniamo in questo punto proprio perché quando poi dopo copieremo le nostre unità abitative in serie almeno in questo modo evitiamo la sovrapposizione. Quindi questa misura sarà 5,60 e l'altra misura che a noi resta che da qui a qua sarà di 1,10. Allora che cosa facciamo? Selezioniamo l'oggetto che abbiamo appena inserito, andiamo sulle proprietà dell'oggetto e scriveremo 5,60 per 1,10. Adesso lasciamo i 7 elementi e 7 elementi che potrebbero anche andare bene. Ok questo qui è la nostra griglia. A questo punto che cosa facciamo? Spostiamo la nostra griglia da questo punto a questo punto qui. Eccolo qua. E abbiamo in questo modo posizionato la nostra griglia. Ora andandola a vedere dall'alto potremmo decidere di cambiare gli elementi nel senso che magari i 7 elementi in questo verso potrebbero anche andare bene. Potremmo decidere di incrementare gli elementi nell'altro verso. Allora basta che selezioniamo anche in questo caso la griglia, andiamo sui parametri dell'oggetto e lungo il lato B invece che 7 elementi, magari ne mettiamo 10. Ecco qua. E in questo modo abbiamo realizzato una griglia un pochino più fitta che ci permette di poter essere percorribile in modo migliore. Adesso per allungare i solai del piano terra, l'operazione già l'abbiamo fatta, andiamo nel piano interrato. Ok. Selezioniamo i nostri solai e cliccando sul bordo apparirà la pet palette, scegliamo l'opzione offset e la portiamo fino in fondo. E la stessa cosa la facciamo nell'altro lato, fino in fondo. Ecco qui. Adesso andiamo nella nostra vista 3D e vedete che abbiamo, diciamo così, il nostro edificio completo. In realtà, come potete ben vedere, ancora la superficie del solaio del piano interrato è ancora in parquet. Però qui, essendo fondamentalmente un piano interrato, potremmo anche decidere, senza fare separazioni, che per tutto quanto questo piano, diciamo così, di mettere le solite piastrelle che abbiamo già usato, marrone chiaro, 30x30 per tutto il piano, in modo che possano andare bene sia per l'interrato che per anche la corsia, anche se poi magari la corsia la potremmo fare in un altro materiale. Comunque sappiamo come procedere. Ecco, in questo modo abbiamo così completato totalmente il piano interrato.